Sì, non fanno tutti stessi noi, c'è questa stanza. Ci faranno lui, fa parola. Ehi! Ah, ah, dai, dai! Porco Giulia! Vai che segna? Non l'ho vista, facciamo. Chi è? Ecco è. Mauro! Oh, va bene! Buongiorno! Buongiorno! Dai, dai, dai. Dai, 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 dai! Viste! Viste! bravo bravo tira il cielo gol ti ha segnato che è da lui due no ma porca ma che sto chiedendo il fatto del mio portiere no no oh 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 oh